Uno, due, tre... E ora di te! L'utente percorre perché la televisione l'ha portato o c'è un problema sociale? Secondo me l'ulteriore mazzata definitiva è stata quella del digitale terrestre. È vero che scegliamo noi, ma la maggioranza dei programmi si somigliano un po' a tutti. Ma Vito Diomenia! Amar Kord, sempre di noi! Mi raccomando, guardate sempre! E ora di te! Genova Sparta! Genova Sparta!